buon pomeriggio a tutti ragazzi e ragazze bentornate in un nuovo video oggi mi trovo nella mia stanza ho cambiato location e stamattina mi è arrivato proprio il pacco di avon quindi adesso vi farò il video dello spacchettamento e niente spero che tutti voi state bene oggi ho fatto i ravioli con spinaci ricotta come avevo detto nel video del spesa euro spin prima di questo quindi se non l'avete visto vedetelo perché c'è tutta la spesa che ho fatto e inoltre volevo dirvi che sempre dell'avon ho trovato molto buono che l'ho utilizzato appunto oggi per fare i ravioli il stampino per i ravioli della tescoma quindi veramente fai ravioli a cuore a triangolo a rettangolo e sferici quindi molto molto carino se avete l'opportunità di acquistarlo acquistato anche se mi sembra che non si può più acquistare cominciamo l'ordine di oggi è sulle 60 euro sì 50 euro e 97 centesimi allora questo è l'anteprima per le presentatrici questo è il catalogo con le offerte outlet e questo è il nuovo catalogo di agosto me ne sono arrivati tre devo dire che per i cataloghi avon è molto più responsabile rispetto a steno perché se non è molto limitata te ne arriva uno se fai un ordine al di sotto di 100 euro quindi su questo devo dire che avon è meglio allora per me ho ordinato questi due bagno schiuma che fa da catalogo ho visto che facevano un odore pazzesco questi erano insieme uno veniva mi sembra tre ore e 50 e si poteva acquistare un altro prodotto a due euro e 50 quindi sulle 7 euro mi sono venute queste due poi una mia cliente con la nostra cliente nonché amica acquistato questi due bagno schiuma muschio bianco 3 euro e 99 l'uno mi pare una cosa del genere erano le offerte fine catalogo poi altri clienti mi hanno acquistato allora praticamente c'è questo set l'ho chiamato set italia perché c'è rosso bianco e verde e questa avon ha fatto questo set e le mie clienti ne hanno acquistato 11 e nell'altra un altro quindi sono 27 con bagno schiuma uno è alla spettata perché sono uscite quindi non mi ricordo uno è insomma non mi ricordo questo qua è una profumazione rossa questo è monoi e questo è mela verde e sono due a mela verde due al monoi e due rossi poi un'altra mia cliente ha acquistato due acque profumate che erano due mi pare sulle sulle 4 euro e due creme profumate per il corpo rare gold e lo è story love inspires e due mi sembra che venivano sulle 5 euro e poi un'altra mia cliente lucia che saluto mi ha acquistato questi due prodotti per i piedi sarebbe lo scrub e il serio idratante con vitamina e tutte e due all'ananas che venivano 5 euro tutte e due ecco questo è tutto l'ordine di oggi di avon ringrazio tutte le clienti ovviamente questi bagno schiuma sono top fanno un odore impazzesco poi c'è questo al mango che ha sentito la profumazione e mi è piaciuto subito quindi l'ho preso visto che ci troviamo in piena estate e niente qui in sicilia il caldo sembra essersi un po acquietato io sono in questo momento col ventilatore però sembra un po meglio quindi ci stiamo stiamo cercando di riprenderci da questo periodo di caldo e spero che finiscano gli incendi presto perché ci sono stati incendi dovunque in tutta la sicilia e niente ora ci prepariamo per metà agosto vedremo cosa fare sicuramente al mare e niente ci addentriamo nel fine settimana oggi è venerdì quindi auguro a tutti voi un buon fine settimana forza e coraggio che prima o poi ce la faremo ne usciremo da questa situazione come dico sempre e spero che voi le vostre famiglie state bene se vi è piaciuto il video appunto commentate mettete un mi piace attivate le notifiche se vi piacciono i video e iscrivetevi al canale e niente ora prossima settimana a questo punto dovrebbe arrivare il pacco stand home perché pensavo arrivava insieme a questo invece arriva sicuramente prossima settimana ci troviamo sotto ferragosto quindi e niente io vi mando un grande abbraccio un grosso saluto e noi ci vediamo al prossimo video una buona serata